Musica Ancora buonasera da Milano Pavia News e benvenuti all'edizione Pavia. I titoli È stato ritrovato privo di vita il 47enne Trentino, scomparso da mercoledì pomeriggio a Colli Verdi. Il corpo è stato rintracciato attorno all'ora di pranzo dalle squadre di ricerca. Si terrà l'11 novembre a Terra Viva l'udienza per il ricorso contro la decisione del giudice di affidare Eitan alla zia Aya, respinta intanto la richiesta dei nonni paterni di vedere bambino senza gli assistenti sociali. I risultati delle controanalisi indicano che non c'era glicerina nel vino sequestrato lo scorso maggio dalla cantina a terra ed oltre po'. I legali dell'azienda hanno chiesto al PM l'archiviazione. La Prologis ha presentato il progetto aggiornato per la logistica di Trivolzio, compensazioni per 10 milioni, tra cui una nuova scuola elementare e la bretella verso la Asente. Inaugurato il centro sportivo della scuola media Pascoli di Voghera, campi all'aperto e una tenso struttura per permettere ai ragazzi di fare educazione fisica senza trasferirsi in altre palestre. E' andata a finire nel peggiore dei modi la vicenda del 47enne originario della provincia di Trento dato per scomparso ormai da un paio di giorni a Colli Verdi. E' stato ritrovato il suo corpo privo di vita. Si sono concluse tragicamente le ricerche di Stefano Rizzi, il 47enne Trentino, di cui da sabato si erano perse le tracce, la cui auto è stata ritrovata nel centro storico di Ruino, nel territorio di Colli Verdi, inoltre Popavese. Il corpo senza vita dell'uomo, originario di Caldès, in Val di Sole, è stato rinvenuto in un bosco ad alcune centinaia di metri dalla chiesa del borgo. Al momento non è chiaro cosa possa essere accaduto, ma tutto, secondo quanto emerso finora, porterebbe gli inquirenti a pensare che l'uomo si sarebbe tolto la vita volontariamente. A portare le squadre di soccorso al ritrovamento, le unità cinofile dei vigili del fuoco che da mercoledì sera erano sulle sue tracce, assieme al nucleo SAPR che ha perlustrato la zona con i droni e agli elicotteri. Sul posto anche la protezione civile con numerosi volontari, la Croce Rossa e i carabinieri della stazione di Zavattarello che stanno cercando di fare luce sull'accaduto. È stata fissata per giovedì 11 novembre l'udienza al Tribunale Distrettuale di Tel Aviv per discutere del ricorso presentato dalla famiglia Peleg contro la decisione con cui si stabiliva l'affidamento di Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, alla zia paterna Aya Biran di Travaco Siccomario. Fino a quella data Eitan arresterà con zia Aya ma non potrà fare ritorno in Italia. In giudice, secondo quanto riportato dall'agenzia AGI, avrebbe nel frattempo rispinto un ulteriore ricorso dei nonni paterni, i quali chiedevano di poter vedere il bambino senza la presenza degli assistenti sociali. In questi giorni i membri della famiglia Peleg non starebbero facendo visita al bambino proprio perché non intendono essere accompagnati dagli assistenti sociali. Svolta nell'inchiesta che aveva coinvolto la cantina Terre d'Oltre Po per un presunto vino adulterato, che in realtà le analisi hanno dimostrato adulterato non era. Le analisi di revisione non hanno confermato l'esito di prima istanza. Con queste parole il Ministero dell'Agricoltura, a mezzo dei suoi tecnici incaricati dalla Procura di Pavia, di eseguire una revisione sulle analisi del vino sequestrato in cantina la scorsa primavera, ha confermato la tesi sostenuta dalla cantina cooperativa Terre d'Oltre Po. Nei nostri vini non ci sono sostanze proibite, ha detto il presidente di Terre, Andrea Giorgi, che ha poi ringraziato la Procura di Pavia per aver accolto la richiesta di ripetere le analisi. La partita di circa 52.600 litri di vino posta sotto sequestro a maggio non sarebbe stata quindi adulterata con l'uso dell'ormai famigerata diglicerina ciclica, un composto comunque innocuo per la salute, ma il cui utilizzo è da qualche tempo vietato. L'indagine, formalmente, non sarebbe ancora chiusa, anche se l'accusa di aver messo in commercio vino non genuino sarebbe stata fin qui smentita dai risultati delle analisi appena resi noti. Andrea Giorgi, presidente della cantina cooperativa che riunisce, oltre a quella di Broni, anche quella di Casteggio e Santa Maria della Versa, ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni in cui non fa mistero delle ripercussioni negative dovute al clamore mediatico attribuito a questa vicenda. Direi che si è scoperta la normalità delle cose, come andiamo dicendo già dal giorno successivo e il blitz del 30 marzo, nessuna sostanza proibita è presente nei nostri vini. A confortarci sono state le analisi che i nostri difensori hanno chiesto alla stessa procura e sono stati fatti dal laboratorio dell'ICQRF di Sussegana e hanno queste analisi fatte in contraddittorio, hanno fatto sì che si dimostrasse che nei nostri vini non vi è alcuna sostanza proibita, come era stata nel metodo classico prima e come nel Pino Nero Rosso oggi. Aver subito delle accuse ingiuste in un mondo globalizzato come il nostro oggi ha creato una serie di grandissimi problemi reputazionali, come si sono dimostrati falsi. Anche sul territorio, come abbiamo detto nel nostro comunicato stampa, ci sono state delle persone che hanno parlato a sproposito e persone anche importanti dal punto di vista del loro appeal pubblico, quindi questo ci dispiace molto. Queste notizie hanno screditato le persone che lavorano per noi, in particolare i dirigenti più alti che si sono visti più volte pubblicati nomi e cognomi ingiustamente sui giornali da un lato e dall'altro la tranquillità intera di chi lavora in cantina che è stata minata in modo ingiusto per favorire lo scoop giornalistico. Questo oggi è oggi inaccettabile e ci sono molte persone che devono porgere a tutti loro delle sonore scuse. Ormai da cinque anni, da quando abbiamo iniziato questo nuovo percorso, direi che inoltre a Popovese, ma non solo, non c'è un'altra realtà che fa i controlli che facciamo noi, che investe in controllo dei vini e in vigneto come facciamo noi. Abbiamo parlato recentemente dell'introduzione di tre sistemi FOS per ogni cantina e continuiamo delle delle campagne e delle procedure volte a controllare il prodotto in ogni fase di lavorazione. Quindi oggi noi siamo sempre più vicini al consumatore e al nostro prodotto garantendone l'origine e la qualità e allo stesso tempo dando la giusta tranquillità a chi lavora per noi e con noi. Sono giorni intensi questi per la questione della logistica di Trivolzio. Oggi si è svolta una conferenza dei servizi preparatoria preliminare per quanto riguarda la viabilità, la bretella verso la sette. Intanto la società proponente ha presentato un progetto aggiornato. È ripartito ufficialmente con la conferenza dei servizi preliminari di venerdì mattina l'iter per la realizzazione della logistica di Trivolzio. La Prologis, società che vorrebbe costruire la struttura da circa 61.000 m2, ha presentato il progetto della nuova bretella di collegamento alla sette, un'opera considerata strategica per la provincia perché dovrebbe evitare il passaggio dei mezzi pesanti sulle strade provinciali. L'opera verrebbe realizzata con costi totalmente a carico dell'azienda, si legge nella nota diffusa da Prologis, e costituirà il presupposto infrastrutturale per uno sviluppo sostenibile per tutta l'area produttiva e industriale posta nord-ovest della città di Pavia. Nel corso della conferenza il comune di Torre d'Isola, che fin da subito si è dichiarato contrario al progetto, ha ribadito che la realizzazione della bretella non risolve i problemi legati alla costruzione della logistica. La bretella non può avere un interesse strategico, ha commentato il sindaco veronesi, perché viene realizzata per un interesse privato, e cioè quello dell'azienda. Inoltre, con la costruzione di un complesso di quelle dimensioni, ci sarà comunque più traffico e più inquinamento sul territorio, ha concluso Veronesi. Spetterà ora alla provincia dare il via libera definitivo all'opera. Prologis ha diffuso in queste ore il nuovo progetto della logistica che tiene conto delle osservazioni ambientali e territoriali emerse nel corso della procedura della via, la valutazione di impatto ambientale. L'investimento complessivo ammonta circa 120 milioni di euro. 10 milioni verranno stanziati per migliorare la viabilità e per la realizzazione di opere di interesse per gli abitanti di Trivolzio e dei comuni limitrofi. È prevista quindi la realizzazione di percorsi ecologici, piste ciclabili, una nuova scuola elementare, un parco pubblico e una nuova area sportiva. Lunedì ci sarà uno sciopero nazionale dell'igiene urbana. Saranno possibili dei disservizi nella raccolta dei rifiuti anche sul nostro territorio. Uno sciopero nazionale che potrebbe portare a ripercussioni anche in ambito locale. È stata proclamata per lunedì 8 novembre infatti la protesta del comparto di igiene ambientale in tutto il paese. Nello specifico lo sciopero è stato organizzato da diverse sigle sindacali, CGL Funzione Pubblica, FIT e CISL, Wiltrasporti e Fiadel e porterà inevitabilmente disservizi anche sulla città di Pavia. Alcuni dipendenti dell'azienda di Via Donegani, che si occupano della raccolta dei rifiuti nel capoluogo, hanno già annunciato infatti l'adesione alla giornata di protesta. L'occhio cade dunque sul calendario della differenziata in città. Per la giornata di lunedì 8 novembre è programmata infatti la raccolta porta a porta dell'umido. In questi giorni l'azienda di Via Donegani ha chiarito che lo sciopero dichiarato dai sindacati di categoria potrebbe causare alcuni problemi per quella giornata. Ad ogni modo e dal netto di possibili criticità verranno garantiti i servizi minimi di base, di raccolta, ma anche di pulizia nel capoluogo. Una piccola emergenza che si risolverà nel giro di 24 ore, visto che da martedì 9 novembre le prestazioni erogate da Via Donegani torneranno a pieno regime. Le notizie sull'andamento della pandemia partiamo dai dati di oggi e cominciamo come sempre dalle vaccinazioni che sono in leggero aumento. Vedete sfiorata la quota di 190 mila somministrazioni ieri in Italia e in Lombardia. Siamo poco sopra le 32 mila. Sappiamo che sono soprattutto le terfe dosi che dovrebbero allontanare questa nuova ondata che però, come possiamo vedere, è in corso. Ormai sta sempre più prendendo forma questa nuova ondata diversa dalle precedenti. i numeri dei nuovi contagi sono comunque ancora abbastanza contenuti, ma in questa settimana c'è stato un aumento piuttosto deciso. E domani a Belgioioso verranno ricordate le vittime del Covid con l'inaugurazione di un monumento in cimitero. Belgioioso festeggia i dieci anni del conferimento del titolo di città e lo fa con un programma ricco di eventi. Sabato mattina, a partire dalle nove e mezza in Castello, sarà inaugurata una mostra sulla storia del comune e si terrà una tavola rotonda sul futuro della città. Poi verranno presentati in piazzi nuovi mezzi acquistati dall'amministrazione. Il momento più toccante sarà però a mezzogiorno, quando verrà inaugurato al cimitero il monumento dedicato ai cittadini di Belgioioso morti durante la pandemia, con un richiamo al 1921, quando l'Europa e il resto del mondo venivano colpiti dalla Spagnola, che causò milioni di morti. Vi saranno degli importanti incontri in Castello, ma poi inaugureremo un monumento che ricorderà i morti durante la pandemia, quindi i morti dal 19 al 21, che purtroppo anche Belgioioso ha avuto, e questa statua che ricorderà questo monumento avrà una singolarità. Sul monumento si era posto la statua di una ragazza. Questa statua era stata realizzata per la tomba di una giovane ragazza, appunto 22enne, morta di febbre gialla nel 1921 a Belgioioso. E quindi ci è sembrato giusto collegare quell'altra pandemia che ha fatto milioni di morti e ricordare in una specie di arco tutti i morti belgioiosini appunto dovuto a pandemie, epidemie eccetera eccetera. Dal 21, dal 1921 al 2021. Cambiamo tono con le immagini di una festa, una festa che riguarda la Scuola Media Pascoli di Voghera, che finalmente ha il suo centro sportivo interno, che è stato inaugurato oggi dall'arciere Mauro Nespoli. È un giorno da ricordare per Vogheri, circa 600 alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, Pascoli, dell'Istituto Comprensivo di Via Marsala, hanno finalmente una palestra e non dovranno mai più fare i pendolari per andare a fare educazione fisica. Grazie al contributo del Ministero dell'Istruzione e di Regione Lombardia, che hanno messo a disposizione circa 125 mila euro, l'area retrostante alla scuola in Via Marsala è stata infatti interamente riqualificata, è stata creata una tenso struttura coperta, un'area verde e un nuovo spogliatoio. Ma venerdì 5 novembre 2021 tanti ragazzi lo ricorderanno anche perché hanno avuto la possibilità di conoscere di persona niente meno che il campione olimpico Mauro Nespoli, che ha simbolicamente scoccato due frecce per inaugurare la nuova struttura, è firmato con molta pazienza centinaia di autografi agli studenti. So che ti aspettano decine, forse centinaia di ragazzi per un autografo, quindi tra poco ti lasciamo andare. Cosa significa la tua presenza oggi qui, anche se in parte mi hai già risposto? In qualche modo io spero di essere un esempio, non pratico una disciplina sportiva, possiamo dire, di quelle più blasonate, però questa Olimpiade è andata molto bene, è stata un'occasione per entrare nelle case dei vogheresi e non solo, è un po' in qualche modo la dimostrazione che provando e riprovando si possono ottenere grandi risultati, quindi vado avanti e cerco in primi sacco, non a parole ma con i fatti, di dimostrare questo concetto. Oggi è stata la festa della Pasqua, ma di tutta la Pasqua e di tutto il nostro istituto. Siamo riusciti ad inaugurare l'area sportiva che io ho tanto voluto, è stata dura realizzarla, però i miei ragazzi ce l'hanno, non dovranno più andare nelle palestre con l'utilizzo degli scuolabus e anche il Comune risparmierà parecchio denaro perché si parla di 35.000 euro all'anno per il trasporto e abbiamo anche la possibilità di avere una struttura che si può utilizzare non solo per fare educazione motoria, ma la usiamo per fare il coro, per fare canto, l'abbiamo usato per fare un saggio musicale di fine anno l'anno scorso, si presta per diverse attività e i ragazzi sono qua in sicurezza. Società sportive, continuando a parlare di sport che hanno pagato caro questo anno e mezzo di pandemia, il Comune di Pavia ha aumentato il fondo riservato agli aiuti per le società sportive e sono aperte le domande per ricevere gli aiuti. Un contributo economico da 70.000 euro per aiutare le associazioni sportive e dilettantistiche del capoluogo è la cifra stanziata nei giorni scorsi dall'amministrazione del Mezzabarba per spese di affitto e per i materiali. Il settore sport del Comune prova a venire così incontro alle oltre 100 realtà attive a Pavia che hanno continuato ad operare in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria e non senza difficoltà. Le domande per accedere al fondo dovranno essere presentate entro il prossimo 26 novembre. A differenza di un anno fa il tesoretto messo a disposizione è stato incrementato di 10.000 euro. Covid e lockdown hanno messo in ginocchio numerose realtà che alla ripresa di allenamenti e gare hanno dovuto pagare di tasca propri tamponi agli atleti senza dimenticare gli interventi sugli spazi richiesti per seguire le normative anti-Covid e garantire il distanziamento tra gli atleti. Ora, grazie a questo bando, gli esborsi saranno in parte coperti. Le associazioni sportive dovranno infatti specificare nella domanda le spese sostenute tra il 30 settembre del 2020 e il 31 ottobre di quest'anno. Il Mezzabarba contribuirà al 50% delle spese effettuate con aiuti che vanno da 250 euro ad un massimo di 5.000. Le domande dovranno essere presentate entro il 26 novembre attraverso una PEC al protocollo del Comune. Le Certosa di Pavia si attendono invece con assi ai fondi del Recovery Plan. C'è già un progetto pronto che riguarda la banda larga. Investire sulle infrastrutture fisiche ma anche su quelle digitali è l'idea dell'amministrazione di Certosa di Pavia che, come tante altre in Italia, sarà chiamata a gestire i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Sindaco in Furna vorrebbe portare la banda larga anche nelle frazioni, là dove il digital divide è più marcato. L'obiettivo però, spiega il primo cittadino, è utilizzare al meglio le risorse. Per quanto riguarda operazioni future sul PNRR, noi abbiamo davvero i cassetti pieni di progetti e siamo pronti a poter accogliere quello che ci verrà dato in termini di enti locali per mettere a terra questi tanti fondi che arriveranno. Sicuramente se gli enti locali saranno messi nelle condizioni di poterlo fare, il PNRR sicuramente avrà un'applicazione vincente di questi fondi che oggettivamente sono tanti, un grande piano Marshall vero, forse il più grande in assoluto della storia, che merita davvero di essere applicato nel modo più corretto possibile per poter fare da volano economico per questo nostro bel paese. Mi aveva spiegato una delle idee, potrebbe essere quella della banda larga anche qui a Certosa. Certamente, la transizione ecologica digitale è una cosa che assolutamente ci interessa in modo davvero importante, soprattutto la frazione di Cascine Calderari è mal collegata e quindi potrebbe essere utile implementare la banda larga e riuscire a fare investimenti in infrastrutture di questo tipo può essere fondamentale per quello che sarà il futuro ovviamente delle nostre comunità. Certosa tra l'altro può contare già su circa 2 milioni di euro di fondi che verranno utilizzati per opere già finanziate, dalla realizzazione di nuove strade e piste ciclabili con le frazioni alla riqualificazione del ponte di collegamento con Villa Lunga. Sì, abbiamo tantissime opere finanziate, circa 2 milioni di euro già programmate e finanziate, faccio alcuni esempi, insomma, nuove ciclabili di collegamento tra la frazione Cascine Calderari e certosa capoluogo, riqualificazioni in termini anche di sicurezza di via Montale e via Mazzini, abbiamo la riqualificazione del ponte di collegamento di Villa Lunga che tra l'altro è già in essere e tantissime altre opere, per esempio penso al collegamento di pista ciclabile che è una delle priorità del nostro DUP, del documento unico di programmazione di collegamento con San Perone, primo peraltro nella storia e che permetterà chiaramente una sostenibilità in termini di mobilità appunto con la cittadinanza e un collegamento interno con la frazione di Torriano, intendo non un primo collegamento perché in realtà c'è già un collegamento ciclabile ma un collegamento proprio stradale che permetterà anche di scaricare la SP35. Capita sempre più spesso, per fortuna, di dare notizie di persone a cui viene salvata la vita dalla presenza di un defibrillatore e di una persona formata per utilizzarla per il primo soccorso. In questo senso si sono attivati anche i sindacalisti del settore bancario della Will. La Will tende la mano a Pavia nel cuore, on-lus in prima linea contro i decessi per arresto cardiaco. Grazie alla collaborazione tra il sindacato del capoluogo e Wilka Pavia Lodi, che rappresenta i lavoratori nei settori del credito, è stata effettuata una donazione all'associazione. Non solo, per la prima volta, 12 delegati saranno formati per interventi di primo soccorso. È proprio un inizio, una forma di collaborazione che vogliamo fare con diverse associazioni perché è un po' la filosofia della nostra organizzazione, quella di aprire il sindacato all'esterno, aprirlo al territorio, aprire le associazioni che si occupano di volontariato e questa è una prima forma di collaborazione che poi prevederà anche momenti di formazione. Perciò è una donazione che noi facciamo, ma è un ragionamento che noi intendiamo fare e sviluppare poi con tutte queste associazioni. Consiste in una donazione economica, che in questo caso la categoria dei bancari fa a Pavia nel cuore e questo ci permetterà, oltre che poi l'associazione deciderà le forme dell'utilizzo di questa donazione, lo dicevo prima, ci permetterà di aprire una collaborazione e che come primo obiettivo è quello di fare la formazione ai delegati della Wilka per interventi di primo soccorso e questa è un'iniziativa che secondo me è in linea con quelle che sono un po' le filosofie della nostra organizzazione. Anche quest'anno la Wilka, l'Odi Pavia, ha deciso di fare una donazione a Pavia nel cuore che è un'associazione di volontariato che ha sede a Pavia in Via Orsi numero 1 e ha come mission quella di mettere nelle mani di tutti la capacità di salvare vite. Abbiamo pensato di fare una donazione con un valore aggiunto e quindi abbiamo riservato 12 posti per dei colleghi nostri iscritti Wilka del territorio l'Odi Pavia di tutte le banche in modo che possano imparare tutte le tecniche salvavita. Una sinergia che piace anche a Pavia nel cuore il cui obiettivo è quello di formare quante più persone possibili per rendere il territorio cardioprotetto. Siamo molto contenti come Pavia nel cuore di questa collaborazione con Wilka oltre alla generosità della loro donazione che ci aiuterà per portare avanti i nostri progetti in ambito di cardioprotezione e prevenzione dall'arresto cardiaco siamo anche molto interessati a cercare di formare e sensibilizzare questa categoria per noi è un pochino una novità dopo aver formato la polizia piuttosto che gli studenti di medicina un approccio a questa categoria lavorativa che molto penso da offrirci e che speriamo sia all'inizio di una collaborazione più duratura. Nel frattempo come procede la vostra attività? Abbiamo finalmente ripreso abbastanza pieno ritmo riusciamo a formare in questo momento un centinaio di persone con i nostri corsi BLSD e misura minore di manovre di distruzione rispettando tutte le regole Covid del caso, mascherina, distanziamento ma diciamo che finalmente riusciamo anche grazie al Green Pass e ai vaccini a vedere un pochino la luce e riuscire a riprendere come ci piace le nostre attività. Era l'ultimo servizio, vi ricordo in prima serata l'appuntamento con Cristina Colli e le regole dello star bene. Arrivederci e buona serata.